Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, spero stiate tutti molto bene, io sto malissimo, sono veramente devastato e sono gli effetti della terza dose ragazzi, tutte le volte mi fai vaccino, sto in questa maniera. Però questo piccolo grande effetto della terza dose mi ha permesso di godermi tutta la conferenza stampa di Pradè, perché poi si è trasformata in questa, e la presentazione ufficiale di Cabral a Firenze. Perché dico la conferenza stampa di Pradè? Perché su Cabral saranno arrivate, non lo so, sei, sette domande. Pradè praticamente l'hanno massacrato e va bene. Lui si è legato molto alle parole di Commisso, adesso affrontiamo tutto per punti, mi sono anche annotato, diciamo, i punti salienti sia di Pradè che di Cabral. Come dicevo, erano molto legate alle parole di Commisso, ma soprattutto erano troppo legate alle parole al caso Vlaovic. Ragazzi, addirittura, a parte un sacco di domande, quasi tutte le domande erano a tema Vlaovic, ma poi, e lo posso anche capire perché poi è il tema principale, ma addirittura a Cabral gli vanno a chiedere come farai a non far rimpiangere Vlaovic in questa squadra. È come se praticamente vengano da te, che tu ti sei appena messo con una ragazza e ti fanno, oh ma lo sai quella? Stava uno che ha letto, gli ero un cavallo. Te come fai ad essere meglio di lui? Cioè, e già tanto se non ti manda a fanculo, questo tu lo devi sapere. Quindi, veramente, ma non neanche mi stupisco, ok? Però, ragazzi, basta, voltiamo pagina, andiamo al diritto, guardiamo avanti. C'hai un attaccante che pare sia buono e che lo stanno presentando, basta parlare di Vlaovic. Ci può stare uno o due domande, anche per riprendere un po' le parole di commisso, che per chi non lo sapesse, ieri si è presentato, diciamo, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha fatto una piccola intervista telefonica con Veronica Maffei, e dove si diceva molto, profondamente deluso, non solo dai tifosi, ma anche dall'amministrazione che non appoggiava, non gli ha mai dato sostegno e soprattutto per quello striscione dove era raffigurato come un pagliaccio, dove nessuno ha detto niente. E quindi parole sicuramente condivisibili da un lato, altre possono aver fatto un pochino più discutere ai tifosi, soprattutto quando parla anche della parte economica, dice che Vlaovic, e questo l'ha ripreso anche Pradè, Vlaovic è stato un grande colpo in entrata, praticamente entrata economicamente, perché la Fiorentina aveva bisogno di questi soldi, sia per ripianare un pochino gli investimenti, sono stati tantissimi, sono stati fatti in questi tre anni, sia perché, ovviamente queste le parole di commisso, è difficile competere con chi fa fatturati da 400 milioni, perderlo a zero avrebbe voluto dire perdere praticamente 75 milioni di euro. Queste le parole, chiaramente condivisibili o meno, però questo il sunto della conferenza. La conferenza, quindi le parole di commisso. Andiamo invece alla presentazione di Cabral, partiamo dalle parole di Pradè, dicono che secondo lui tutta la squadra, tutto lo staff sa che la squadra non dipende appunto solo da Vlaovic, tutta la squadra appunto si farà trovare sicuramente preparata, remano tutte nella stessa direzione, quindi non ci saranno ripercussioni psicologiche, e questo ha evidenziato la preoccupazione che ha nei confronti di commisso, perché ieri commisso appunto ha detto io mi devo prendere due, cioè un po' di tempo per riflettere, perché sono profondamente deluso e quindi secondo Pradè questa esternazione è molto preoccupante, Biraghi dice ha parlato molto col presidente, vediamo insomma come si starà sviluppando. Hanno fatto delle domande i giornalisti anche sui due Alvarez, Pradè ha risposto che Julian Alvarez, quello è poi andato al City, in realtà sì lo seguivano, sì è un calciatore fortissimo, però non l'hanno mai seguito con grande insistenza, quando invece sono andati a dare l'accelerata, in realtà l'aveva già preso al City. Perché non lo seguivano con insistenza? Perché avevano Vlaovic, avevano Piontek. Io ci credo e non ci credo a questa cosa, perché se poi dopo sapevi di venderlo, vabbè, insomma, questa è la risposta di Pradè. Poi un punto sul grande lavoro, ecco questo a un certo punto ha evidenziato il grande lavoro fatto dall'attuale società, quindi ovviamente da Daniele Pradè soprattutto, nel ripulire, cioè si è levato sostanzialmente un po' un sassonino alla scarpa, nel ripulire gli esuberi, poi ha menzionato anche Dabo, ecco, Dabo, leviamolo, grande rispetto per Brian, cuore viola. Però comunque diceva che c'erano molti esuberi nella Fiorentina passata, quella lasciata poi all'era commisso, tra cui Zeichnini, Terò e via, loro sono stati bravi a ripulire questi esuberi, e alcuni di questi, tra l'altro, li stanno ancora pagando per le commissioni e via dicendo. Quindi, insomma, è stato un investimento importante, ma loro si sono sempre trovati pronti, fatti trovare pronti. Inoltre ha parlato di Vincenzo Italiano. Per la Fiorentina e per Pradè questo allenatore, così come lo stimiamo noi, lo stimano anche loro, per loro è l'allenatore non solo della squadra attuale, ma anche nel futuro. Ora, toccandosi gli Zebedei, perché poi facendo ste cose porta sempre male, però comunque vorrebbero investire su di lui a lungo termine, seppur, questo lo dice Pradè, seppur sia presto ancora per parlare di rinnovo. Ma, questo lo dico io, ragazzi, la storia ci insegna che non è mai presto. Quindi, Pradè, al massimo altri due mesi. Poi, se va bene, la firmettina io ce la farei, eh? Allora, andiamo adesso invece su Cabral. Cabral ha parlato veramente poco, le domande erano poche per lui, alcune dei tifosi. Fatto sta che i punti più salienti sono, lui si descrive come un giocatore forte fisicamente, che però partecipa alla manovra, ma è un rapace d'aria di rigore. Quindi, dà il meglio di sé in area di rigore. E questo, a me, personalmente, fa godere un casino. Altro punto, non sente la pressione, quindi riallacciandosi alla domanda di Vlaovic, ma capisce la responsabilità che ha. Quindi, sa che è in una piazza importante. Altro ennesimo punto che mi ha gasato. Che è una piazza importante, che ci sono grandi responsabilità. E a questo si aggancia anche al fatto che lui, adesso, è nell'orbita della Nazionale del Brasile, e quindi vorrebbe mantenersi, vorrebbe andare ai mondiali e Firenze è la piazza giusta per farlo. Dimmi te se non devo amare questo giocatore. Si paragona ad Adriano dell'Inter, ma il suo mito è Ronaldo Fenomen. Non capisce, vabbè, ancora bene. Capisce l'italiano, scusate, ma non lo parla ancora bene. È normale. Gli ha parlato molto bene di Firenze. E, attenzione, il Kuz, Kuzmanovic, e Sebastiano Esposito, che anche lui è in forza al Basilea. Va bene, ragazzi, questi erano sostanzialmente i punti salienti di tutti i punti di vista. Quello di Commisso, di Pradè e di Cabral. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Lasciate un mio garba se avete garbato il video. Iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social. A proposito di tutti i social, stasera, alle ore 20, sarò in diretta con Genuino. Genuino è uno degli sponsor, tra l'altro, della Fiorentina, per parlare di NFT. Ragazzi, se non sapete che è, io intanto vi dico che è una figata pazzesca. Però seguiteci, appunto, in diretta sulla mia pagina Instagram, o sulla pagina, ovviamente, di Genuino. Profilo Instagram, perché sennò sembro troppo boomer. E scoprirete tutto. Veramente, ragazzi, è una figata. Ve lo assicuro io, quindi almeno informatevi con questa diretta. Ragazzi, commentate. Forza Viola e JM.